Francesco Totti ha voltato pagina e sta insieme a Noemi Bocchi? Il magazine di Alfonso Signorini non ha dubbi e mostra le nuove foto dell'ex marito di Hilary Blasi in compagnia della nuova compagna. Francesco Totti e Hilary Blasi si sono lasciati e lui sta con Noemi Bocchi, le nuove foto infiammano il gossip. L'indiscrezione è ormai su tutte le testate di gossip, scopriamo cosa è successo e chi è la presunta nuova compagna dell'ex capitano della Roma. Legge anche, Noemi Bocchi, chi è la presunta amante di Totti? Età, ex marito, come si sono conosciuti, foto, incidente, Instagram Hilary Blasi e Totti si sono lasciati, l'annuncio Totti e Hilary Blasi sarebbero pronti a separarsi dopo 17 anni di matrimonio. Queste le indiscrezioni che circolano da diversi mesi sul web e che adesso pare abbiano trovato aria di rottura per l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva, che stando alla notizia di Dago Spia, sarebbero prossimi all'annuncio ufficiale di separazione. Stando a quanto riportato da Dago Spia, infatti, mancherebbero poche ore all'annuncio ufficiale della separazione tra Hilary Blasi e Francesco Totti. Ecco cosa riposta la testata, Totti e Hilary Blasi, perché si sono lasciati? Hilary Blasi e Francesco Totti perché si sono lasciati? Pare che lo storico capitano della Roma, dopo la scoperta di un presunto tradimento da parte della conduttrice con un giovane spasimante, avrebbe voltato pagina con un'altra donna, il suo nome pare essere Noemi Bocchi. Noemi Bocchi Noemi Bocchi e Totti stanno insieme, le nuove foto mentre tutti attendono l'annuncio ufficiale di rottura tra Hilary Blasi e Totti, il gossip è esploso nuovamente sulla presunta amante Noemi Bocchi. La ragazza e l'ex capitano della Roma sono stati beccati nuovamente insieme dopo le smentite dei mesi passati. Ad annunciarlo è chi che dedicherà la copertina a questa storia il prossimo mercoledì 16 luglio. Ecco cosa si legge sul magazine, ecco, invece, cosa riporta da Gospia in merito, foto di chi Totti ha tradito Hilary Blasi con Noemi Bocchi? Il primo avvistamento a febbraio allo stadio Francesco Totti, come riportava da Gospia già a febbraio 2022, avrebbe avuto una relazione segreta con Noemi Bocchi, con cui condividerebbe la passione per il padel. La storia sarebbe iniziata a fine 2021 si leggeva sulla Repubblica. Ma come hanno fatto i giornali a scoprire questa relazione? La storia sarebbe stata svelata quando l'ex calciatore è stato vittima di un incidente in auto. Noemi, infatti, pare sia scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa per raggiungere Totti. Il quotidiano, inoltre, faceva sapere che all'Olimpico, durante Roma-Genoa, la partita giocata il 5 febbraio 2022, Noemi era seduta a due file di distanza dall'ex capitano. Foto di la Repubblica dopo aver visto le nuove foto con Noemi Bocchi, secondo voi Ilari Blasi e Totti si sono lasciati davvero? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.